Come sempre E come sempre Camminare Senza tutti i tuoi perché Meravigliosamente Libera E presentiamo Una nuova band inedita Che cercherà di calcare il palco Dell'Avica Rock 2019 Ciao ragazzi, benvenuti Allora voi vi chiamate Thunder Pig Perché questo nome? Per associare un po' l'idea di musica rock Hard rock metal Quindi il fulmine che ricorre in questi Generi musicali Associandolo però ad una figura Simpatica che può essere il maialino Quindi abbiamo accostato il tuono E il maialino, non c'è altro Significato Oddio ragazzi, è un po' complicata Io mi sono confuso, però mi fido di voi Allora tu sei? Dario Sei il? Cantante e chitarrista Io sono Vincenzo e sono il bassista Io sono Paolo e sono il chitarrista Io sono Nunzio e sono la batteria Bene, allora siete al completo, siete tutti Benissimo Allora diteci un motivo valido per cui gli amici a casa dovrebbero votare voi Gli amici a casa dovrebbero votarci per darci modo di presentare a Lavica quest'anno i nostri inediti Perché fino ad ora ci conoscono come Tribute a CDC o comunque come cover band di brani dagli Sleira e Pantera Insomma di musica metal abbastanza pesante Invece ora andremo a miscelare un po' le sonorità diciamo metal Però con dei testi in italiano Quindi una cosa diciamo particolare per quello che è il genere metal in sé Cioè questa miscela di cantato diciamo non proprio con dello scream o con del growl Con quello che sono le generalità del cantato metal Però mischiate con una batteria appunto col doppio pedale Con delle distorsioni abbastanza serrate E anche con delle melodie diciamo su accordi e su melodie giri minori O comunque usiamo tipo in un altro brano la Scala Araba Diciamo sonorità molto meglio Stiamo parlando di tecnicismi vari che non so se tutti voi conoscono Ma mi fa piacere ascoltarli e soprattutto mi fa piacere trovare delle band che rischiano Perché ragazzi è un rischio di cantare in italiano Cioè associare il metal alla lingua italiana non è facile E io sono sicuro che voi siete bravissimi Ci avete preparato qualcosa? So che ci avete preparato qualcosina Abbiamo due inediti attualmente con questo stile Benissimo, allora adesso ascoltiamo intanto quello che ci avete preparato Per presentarlo ai nostri amici a casa E speriamo che clicchino e mettano un like Ci vediamo tra pochissimo 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 ou, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 20 inesistente, come sempre ritornare a cercare proprio te, meravigliosamente libera, e come sempre camminare senza tutti i tuoi perché, meravigliosamente libera. C'è chi dice che il metal non può essere fatto unplugged, avete avuto la dimostrazione che non è così, loro riescono a suonare il metal anche in acustico, quindi ovviamente vi invitiamo a votare i nostri cari amici Thunderpig, poi magari vi spiegano loro meglio il nome, io non l'ho capito benissimo, mi dico la verità, scherzo, ovviamente io vi do l'appuntamento per tutti voi il 7 e l'8 di settembre, la Vicaroc 2019, Parco Antonio Neante di Via Grande, ciao! Grazie a tutti!